Che vuoi? Uomini e donne, il serale inunda venerdì, ci saranno Gianni e Tina Arrivano delle grosse novità riguardanti il celebre people show di Maria De Filippi, Uomini e donne. A diffondere in anteprima questa notizia è il portale di Davide Maggio. Questultimo, infatti, ha svelato il giorno esatto della messa in onda dellattesissimo serale di Ued. Questo significa che tra pochissimi giorni avremo modo di assistere alle scelte dei tronisti. Ecco quando va in onda il serale di Uomini e donne. . Vi diciamo subito che il serale di Uomini e donne andrà in onda nel serale di venerdì a partire da febbraio. Ci sarà un duello, a quanto pare, tra il people show di Canale 5 e Sanremo Young di Antonella Clerici. . Ma si tratta di una scelta piuttosto competitiva in quanto, venerdì sera, andranno in onda anche la seconda stagione di Tego o Doctor Italia's Got Talent su TV 8. . Riuscirà lo show di Ued a battere la concorrenza di Mamma Rai e della Sky?. . Ecco cosa vedremo nel serale di Uomini e donne. Durante il serale di Uomini e donne verranno svelate le scelte dei tronisti, eccetto quella di Andrea Cerioli. . A condurre i vari appuntamenti saranno Gemma Galgani e Giulia De Lellis, inoltre, ci sarà anche il party di Valeria Marini. . Maria De Filippi, invece, non sarà presente. La scelta avverrà allinterno delle ville ma sarà diverso dalle precedenti versioni. . Il tronista dovrà fare la dichiarazione damore davanti ai genitori della corteggiatrice Fortunata. Alla festa organizzata dalla Stellare Marini, vi prenderanno parte anche i celebri opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. . Insomma, sarà davvero pazzesco. . . . . . . . . A presto!